Umberto Zampieri, assessore del Comune di Padova, inaugurato sabato il nuovo Pala Indoor, seconda struttura indoor a livello nazionale. Un suo commento. Siamo molto soddisfatti, ci abbiamo impiegato 4 anni, abbiamo investito 4 milioni e 800 mila euro, però adesso ci godiamo una grande soddisfazione, perché questa struttura servirà per l'atletica leggera di alto livello, che a Padova è ben rappresentata da Fiamme Oro, Assi Industria, Atletica Città di Padova, CUS, sono tantissime le associazioni. Verranno anche atleti di livello nazionale, ma utilizzeremo quotidianamente poi questa struttura per le scuole, quindi per i più piccoli della nostra città e per tutti coloro che in vario modo promuovono lo sport dell'atletica leggera. L'impianto comunque è integra, atletica leggera e ginnastica artistica e anche questo a suo modo è forse il primo esperimento a livello nazionale per far convivere due discipline, sfruttare al massimo gli spazi e cercare quindi di ottenere il massimo da quest'opera pubblica.